Tutti volevamo vincere oggi. L'inizio della partita è stato positivo da parte nostra. Devo ricalcare soprattutto i due momenti in cui abbiamo vinto con il passaggio dietro. Purtroppo non ci sono stati i gol per aprire il punteggio. Poi abbiamo concesso un pochettino di spazio a loro. Eravamo un pochettino larghi. Alla fine il gol arriva per una debiazione. Con tutto questo penso che hanno cambiato la partita. Il secondo tempo è stato tranne i tre momenti nel campo dello Zenit. La squadra ci ha provato. La squadra ha fatto il gol. Un errore di concentrazione nella punizione che fa il passaggio verticale per Vendel. Ci punisce, però continuiamo. Una squadra che ha spirito. Se Teo e Chris facciano il punteggio di 2-2, penso che era giustissimo. È corto anche. È corto soprattutto una squadra che ha 45 minuti. L'opponente non ci ha creato neanche pericolo. Neanche una volta o magari una volta. Poi l'ultimo gol arriva quando la squadra già sembra... Non sembra che nell'ultimo minuto ci hai provato. Non l'hai potuto ripantare. Quindi niente. Lavorare, continuare, credere nei ragazzi, credere nelle situazioni che abbiamo avuto. Oggi non è entrata. E ovviamente lavoreremo per migliorare e soprattutto per corregire i difetti. Per favore. Rella stava che le punti. In media di scopo, il centro delle progetti. In qualche parte invece. E l'innamorata del progetti che erano nelle cose delle corpore. Di più sensibili. La scopo è andata con la domanda. Ma kings ezuci una operazione. Ora trasferta l'alto quanto la scopo. L'argo avuto, secondo le scopo. che hanno dato il proiettivo, magari sono stati troppo e, infatti, è successo e, infatti, è stato un gol ed è stato anche il ricochet. Ma seconda, praticamente, c'è 3 momenti per l'interno, in generale era un gol, ma, infatti, l'epoca, l'epoca, quando la scuola è stata una scuola per la scuola, a lui è stato un gioco, a noi stavano anche un momento, i ragazzi stavano, non lo sopare, non lo sopare, non lo sopare, ma in un gioco, è stato molto e molto vero, in quel momento i ragazzi sono stati bianco, perché la scuola in 45 minuti non ha fatto la scuola, Poi ho dimenticato tre dettagli molto importanti, abbiamo subito l'infortunio di Víctor che alla fine è un cambio E poi c'è un vergognoso, perché per me è vergognoso, perché non c'è una altra parola, un cartellino giallo dopo nove minuti Nove minuti After nine minutes, Giorti Carte, tu, Ignatov, what is this? What is this? Because this is kill the match So, Giorti Carte, let the players to play, in the beginning, we press, we recover the ball, we have chances, we are there And in one moment, bang, Giorti Carte, finish, we lost the player Because the player cannot go more, after nine minutes And the first five minutes in the second half, the team was with a big reaction, they arrived, Teo arrived, Sobolev arrived, Chris arrived, Quincy arrived to the box, so they were there, they showed that they wanted to come back to the result And this Giorti Carte is a bit discutibile Yeah, and I would like to mention three important details of the match First of all, it was a trauma of Victor, because it was forced to move on Because it was forced to move on And the second moment, in my opinion, it was a bizarre decision, I have no other word I have no other word And this is a yellow card, which is already shown in the ninth minute, Михаилу Люгнатову What is this? What is this? What is this? This is the reason of the time of Inyato, Inyato did very well, he didn't do nothing wrong Obviously, with the Giorti Carte, with this possibility, to be able to move on In the second moment Yeah, this was the reason of the change of Inyato, because he played well But with the yellow card, we couldn't be able to move on As it was before